ciao a tutti oggi andremo ad aprire tre pacchetti di astri lucenti grazie a tutti perché siamo arrivati finalmente 50 iscritti ora iniziamo con charizard speriamo di aprirlo bene perché magari lo conserviamo questo io vorrei trovare un avviastro o una o una rainbow magari io sono un appassionato della trener galli che già abbiamo trovato due carte imparare e ancora una bella scuola che nessuno che us lo sepas milcheri the dance bar fad che bel art l'energia notta luxio è carino luxio molto carino questo ci manca bacino di magma qua è la reverse troppius abbiamo qualcosa abbiamo un gol ora andiamo col secondo pacchetto innanzitutto voglio salutare delle persone che guardano i nostri video ovvero Costanza Giacomo Luca e Giuseppe ciao ragazzi e tutti gli altri che ancora non ci hanno scritto di essere salutati scrivete un commento e vi saluteremo ora andiamo ad aprire questo fantastico pacchetto di shiny che io non so perché alcuni pacchetti sono impossibili da aprire chiediamo aiuto aiuto per favore mi raccomando dovete andare a vedere tutti i video e mettere like a tutto comunque ora andiamo 4 e 2 facciamo il trick e vai insomma vediamo un attimo che troviamo in questo pacchetto mincino mincino carablast buizel auluccia si guarda che carino questo tro non lo abbiamo energia oscurità cintura scelta lux di nuovo di nuovo in molto molto carino piano e anche in questo non abbiamo niente ah moltres solo mi sa che ce l'abbiamo molto carina abbiamo quella promo ti ricordi che abbiamo usato le promo moltres e non era però l'olui moltres era no era ci sono i tre video dell'apertura infatti potete vedere così poi ci scrivete un commento e ci magari lasciamo in descrizione i link ai kit di pre-release l'apertura vedete a vedere se era o no o no e questo weekend ne apriremo magari un altro kit di pre-release così vedremo ancora qualche carta di asseducenti ti piace questo set? molto bello mi pare mi trovi per favore una carta della trainer gallery o una Zeus si è rotta il pacchetto che dici? ci proverò ci provi trick e andiamo io vorrei trovare come si chiama una Sylveon perché è il mio pokemon preferito Sylveon a me piace Mimikyu ci sono qua Mimikyu V Mimikyu V Max Corprish Golet Cimce 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 tutti con Cisette sono in difficoltà oggi Mimicino energia Psico Grotl Berry Clang 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 Ariados 2 Ariados grazie Marti mi hai trovato una carta di quelle che mi piacciono è la nona ma per aspetta sai ci potrebbe essere pure il doppio hit ci potrebbe essere pure un'altra carta abbiamo Garchomp te lo ricordi è quello che c'è l'errore nella traduzione dal giapponese ah vero l'avevamo già trovato in un pacchetto di un kit di release nel primo forse sempre in descrizione del link ora andiamo a rivedere questa fantastica carta che abbiamo trovato è Trader Gallery Ariados ed è il numero 9 ci manca questo amore eh sì noi ne abbiamo due e questa qua abbiamo abbiamo The Den abbiamo The Den e io ho trovato come si chiama Clareon e allora ora faremo vedere tutte le carte Olo e che abbiamo trovato in questo in questi pacchettini andiamo ad aprire oddio ho volato tutto ok andiamo le prendo tutte e viacoli abbiamo trovato Morgrem Reverse Moltres Olo Golurk Rara normale Tropius Reverse Garcham Olo e infine Ariados Trader Gallery è molto molto bello siamo contentissimi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina ciao Ciao